buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale youtube andiamo avanti con la modellazione della nostra mokabialetti abbiamo fatto la parte sotto adesso dobbiamo fare la parte superiore allora io ho scalato il modello da centimetri a millimetri così riesco a lavorare meglio vado in vista frontale ecco per fare questo basta che noi andiamo qui nelle opzioni andiamo qui in unità vedete unità modello andiamo a cambiare qua diciamo le unità del nostro modello attiviamo i disini tecnici o che dobbiamo farla quindi la parte superiore quindi quella filettata e poi questa superiore qua ok per far quella filettata basta che noi andiamo a in prospettica e andiamo a strappolare diciamo il diciamo una curva che che le strappoliamo andando qui nel curva d'oggetti clicchiamo su estra i bordi quindi estremo il primo bordo ok e poi estraiamo anche il secondo bordo invio e poi facciamo unisci andiamo nella vista superiore ok nella vista superiore e facciamo un'office di questo quindi off set invio e l'office dovrebbe essere di due millimetri quindi 2,5 millimetri quindi 2.5 invio ok eccolo qua e facciamo il nostro vediamo se forse un po tanto facciamo un pochino di meno quindi andiamo nella vista superiore contro z selezioniamo la curva quindi offset 1.5 1.5 ok perfetto 1.5 perché poi dovrò mettere lo spessore di un millimetro sopra perfetto di ma che poi andiamo vicini diciamo quello che è il nostro la nostra base che poi andiamo nella vista frontale e questo lo portiamo tranquillamente giù fino a cui possiamo farlo estrudi quindi estrudi tratto che abbiamo già la curva estro di curve diciamo solido no ok perché deve essere servuto e poi andiamo verso l'alto quindi verso l'alto e strappoliamo quindi più o meno una roba del genere potrebbe andare bene abbiamo prospettica perfetto adesso andiamo nella vista frontale attiviamo i disini tecnici e dobbiamo andare anzi di essere più in alto quello qua quindi no partiamo da qua più o meno e andiamo a fare quindi uno scala uno di scala uno di e ci agganciamo al quadrante anche va benissimo il quadrante e poi andiamo verso l'alto fino qua più o meno così perfetto così va benissimo andiamo a creare subito le nostre facce le nostre facce quindi prendiamo sempre il nostro rettangolo creiamo uno strettangolo che più o meno sanno roba del genere che poi lo esplodiamo perfetto la parte sotto ovviamente anzi e aspettiamo una sì per sotto si può eliminare questa qui va ruotata quindi 2d andiamo da agganciarci qua da agganciarci qua togliamo gli snap e andiamo inclinarla con l'attimo perfetto e questa qua dovrà essere ripetuta con copia speculare e attiviamo il medio perfetto ci agganciamo al medio e sarà dall'altra parte e questo questo dovrà essere collegata quindi con una polilinea ci agganciamo qui che ci agganciamo qua perché se il piatta sopra e tonda sotto quindi sempre con il fine pardon attivo ci prendiamo un arco ci agganciamo ci agganciamo togliamo gli snap e andiamo da lì la curvatura più o meno così benissimo poi facciamo un questo non serve più per ora facciamo una superficie curva planare quindi selezioniamo le nostre curva planare che sono questa curva planare che è una due tre quattro invio e creiamo la nostra curva selezioniamo tutte le curve che ci sono qui e le portiamo nel camgetto di livello curve teniamo solamente la nostra superficie che la teniamo qui perfettamente al centro l'unica cosa che vado nella vista di destra e questa superficie qui che dovrà essere messa all'esterno un pochino della mia caffettiera dovrà essere inclinata leggermente verso l'esterno quindi non serve che per inclinarla non serve che io mi aggancio all'oggetto io posso tranquillamente anche prendere scala 2d cioè parlo una volta 2d anche qui vado su verso l'alto e poi vado a a inclinare avete quanto inclinato in realtà è creata così mazza abbastanza allora andiamo nella veste superiore ok ce l'abbiamo qua ok clicchiamo su serie polare 0 invio dovrebbero essere otto alimenti sono sbaglio invio invio e invio vediamo se può andare bene otto elementi no perché non tocchiamo assolutamente quindi almeno 9 elementi contro z ok andiamo nella veste superiore rifacciamo invio 0 invio 9 invio invio ok vediamo se adesso andiamo esatto vedete che adesso andiamo a perfettamente a intersecarci allo togliamo i disini tecnici e vediamo se funziona diciamo il fatto di andare a tagliare a questa parte la stessa cosa come abbiamo fatto sotto i denti con l'unica cosa che vediamo se non ci crea problemi insomma quindi facciamo tronca seleziono invio e incomincio a troncare le parti che non mi interessano tipo questa aia questa ok vedete che mi crede ci crea dei problemi non so se anche voi creerà questo problema qua che mi va a tagliare solo da una parte e non mi taglia invece dall'altra ok quindi poi dovrò fare un'altra operazione per poter far questo allora intanto andiamo di nuovo a dirgli questo taglio e taglio questo vedi che se io provo di la dall'altra parte non me lo fa fare comunque un problema risolvi un altro modo ok allora adesso ci manca di andare a troncare queste alette che non riesce a troncar mele no vediamo se se io clicco su questa lo tronca questa invio e mel tronca no non mi tronca niente e neanche da questa parte allora per poter troncarlo siamo obbligati a fare questa cosa qua guardate selezioniamo i bordi cioè strai bordi facciamo un bordo due bordi 3 invio ok poi clicchiamo su tronca e poi andiamo troncare vedete adesso come lo fa perfetto mi manca questo quindi facciamo di nuovo un tronca questo invio e mi troncherà questa ma non mi tronca questo e per questo andiamo a strappolare di nuovo il bordo invio tronca e stavolta non troncherà la colla perfetto poi qui selezioniamo tutto il curvo che abbiamo fatto che non ci servono possiamo cancellare come facciamo un bel cancio e andiamo unire queste superfici quindi unisci perfetto ok e adesso andiamo a fare la stessa operazione come in fatto sotto qua quindi per fare questo allora qui no non va bene più l'arco magari diciamo ok allora scusate mi ero fermato un attimo perché ho visto che appunto c'era quel problema che non collimava e non mi tagliava come vi ho spiegato prima poi mi è venuto un dubbio e to magari è perché le facce non sono abbastanza larghe allora cosa ho fatto sono dato una vista frontale ho ricostruito le faccio un po più larghe ok e vedo che adesso vedete che adesso mi taglia sia da una parte che dall'altra se faccio così e faccio un taglio quindi lama di taglio mi taglia perfettamente e qui sotto vedete che adesso andiamo collimare perfettamente quindi va bene sbagliando si impara ok quindi facciamo fate in questo modo anche voi ecco se non vi taglia le facce tutte e due da una parte dall'altra vuol dire che abbiamo sbagliato non collimano perfettamente su perché sotto mentre se tagliano come in questo caso qua o come quando abbiamo creato la base sotto allora quindi avevamo fatto una buona costruzione perfetto allora andiamo avanti e quindi adesso dovrebbe andare bene quindi qui facciamo un unisci di tutte le facce perfetto se io vado adesso nella vista frontale e vado a vedermene ecco queste sono perfette quindi ci siamo ok ecco l'unica cosa che si può andare bene allora andiamo in prospettica e andiamo a crearci la la congiunzione e con questo andando insomma superfici accordo ben superfici quindi la prima serie di 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 bordi della prima super delle prime superfici invio la scuola serie che sarebbe costo invio ok facciamo un anteprima andiamo qui a vedere la nostra prima e lavoriamo sulla tangenza ecco sulla tangenza e andiamo a vedere di creare una tangenza che sia realisticamente fatta bene ecco tipo una roba del genere ok perfetto e così ci siamo voglio dire che così è quasi perfetta benissimo possiamo già penso andare a andare a fare un unisci di tutto quindi nel prospettica facciamo unici 123 invio perfetto questo modo qua benissimo adesso prima di di proseguire ok noi dobbiamo andare a creare il nostro beccuccio quindi se vado nella vista frontale tv di tecnici o questo beccuccio qua ok e questo beccuccio deve andare perfettamente a collimare a metà di una se vanno nella vista di destra ok perfetto e tolgo i disini tecnici spengo disini tecnici e attivo e attivo la ombreggiata ok e vado a prendermi una linea punto medio 0 invia vado perfettamente al centro e vado a tirarmela verso l'alto ok vedete che io qua non collimo perfettamente con il centro qua quindi io devo andare a collimare lì per andare a creare poi il mio beccuccio che parte perfettamente al centro di questo quindi devo selezionare questa e fare una rotazione vediamo se riusciamo a fare una rotazione allora facciamo ruota 2d ruota 2d selezioni invia centro centro e centro ora adesso sì adesso ci siamo ok perfetto adesso ci siamo vedete allora vado alla vista di destra eccolo qua la social abbiamo perfettamente il centro e quindi da qui noi possiamo andare a costruire il nostro beccuccio quindi per costruire il nostro beccuccio dovremmo partire più o meno da qui dobbiamo strappolare qui una una come si dice una linea quindi partendo da qua quindi cliccando su estra i bordi seleziono estraggo il primo bordo ok e poi io estrarrei anche questi due bordi qui quindi di nuovo facciamo 12 invio quindi avremo 12 i tre bordi vedete ok quindi questo momentaneamente potrei anche spegnerlo ok e questi bordi qui noi li abbiamo vedete ecco li abbiamo inclinati in questo modo qua andiamo nella vista di destra e qui andiamo a creare il nostro beccuccio perché la nostra beccuccio dovremo andare a prendere una polilinea attivare solamente il vicino perché non avremo dei punti riferimento ben precisi e partiamo tipo da questo ok che andiamo giù in prospettica ok e lo facciamo anche dall'altra parte quindi selezioniamo quindi clicchiamo su copie speculare no vicino no facciamo fine per se sicuri che ci agganciamo bene ok perfetto e dovremo perfettamente essere agganciati ok quindi andiamo in prospettica eccolo qua benissimo perfetto poi riattiviamo col destro il mouse la nostra superficie in questo modo qua e poi possiamo andare a fare una cosa di questo tipo qui allora per prima di tutto facciamo suddividi questa curva questa curva invio e le due lame di taglio una due invia ok quindi avremo uno ok eccolo qua perfetto allora adesso dobbiamo tagliare la superficie per te la superficie basta che clicchiamo su tronca lui ci chiede gli oggetti di taglio che saranno questa curva questa curva questa curva questa curva invio e tronchiamo il centro vediamo se non lo fa troncare no bene benissimo non me lo fa troncare allora se non me lo fa troncare ok possiamo fare in un altro modo non me lo fa troncare perché allora possiamo fare una cosa così allora andiamo nella vista di destra ok proviamo a troncare da qua quindi allora selezioniamo la curva e anche questa curva qui attiviamo i punti di controllo prendiamo il punto di controllo lo portiamo all'esterno in questo punto di curva lo portiamo all'esterno tendo sempre allineati questo modo qua facciamo esc ok e poi facciamo tronca oggetto italia oggetto italia invio e tronchiamo ma questa volta troncato tranquillamente eccolo qua ok quindi abbiamo troccato in prospettiva in realtà senza probabilmente non toccavano perfettamente la superficie quindi se non diamo invece in prospettiva riusciamo a troncare tranquillamente allora queste queste curve che non servono più le eliminiamo anche questa non mi serve più la elimino via perfetto e da qui parto e esco con con il mio beccuccio quindi con il mio beccuccio io mi aggancio fine vado nella vista superiore ok e vado più o meno all'esterno aspettate un attimo mi aggancio qua vado più o meno dovrà essere lungo quanto vediamo nella vista frontale attiviamo i disegni tecnici non dovrei essere troppo troppo lungo tipo ok perfetto benissimo poi andiamo nella vista superiore anzi in vista prospettica mi aggancio qui vado una vista superiore ok tolgo i disegni tecnici perché ho già un punto riferimento che quello e vado che era il mio beccuccio tipo non la via gli snap snap mi snappo sotto ok ok così questo dovrebbe essere perfettamente planare vedete e planare dunque cosa che io avrei fatto un po più lungo sinceramente sinceramente avrei fatto un po più lungo nella vista frontale attiviamo i disegni tecnici io avrei fatto un po più lungo sinceramente proprio secondo me sta meglio alla vista superiore io lo faccio un po più lungo perché non mi piace e mi sembra troppo corto questo quindi attivo i punti controllo prendo questo e vado ad allungarlo appena appena tipo così secondo me sta in questo modo qua esc e poi faccio una copia speculare dall'altra parte quindi copia speculare mi aggancio al fine qui perfetto copia speculare e questi due lì aggancio simone 12 no cosi che ho fatto ho sbagliato allora raggiunto 12 successo prospettica toglie di interne c'è questo via e mi aggancio 12 ok perfetto benissimo e da qui io vado giù vado giù con con una curva per punti controllo tac vado nella vista frontale e dovrò andare giù tipo in questo modo qua più o meno così e mi aggancio mi aggancio qui qui ok ovviamente è sbagliata perché dovrò andare a metterla a posto vado nella vista di destra vedete che è completamente sbagliata attivo i punti controllo delle mie curva e vado a posizionarla in modo più corretto ok dovrebbe andare bene andiamo perfetto ok quindi andiamo nella vista di destra sempre selezioniamo attiviamo solo lo snap medio prendiamo copia speculare copia speculare ci agganciamo al medio e andiamo verso il basso abbiamo creato anche l'altra benissimo adesso ben creare le superfici quindi qui dobbiamo avere una una curva quindi strappoliamo di nuovo e strai bordi questo bordo che questo bordo invio ok e adesso vado a creare le mie superfici quindi perché le superfici vado a prendere lo strumento superfici quindi sicuramente potrebbe essere superficie due tre quattro cose di bordo proviamo quindi una due tre via quindi prima superficie abbiamo come nella costruita potrebbe andare bene ok di nuovo una due tre invio e questo qua frontale anzi destra facciamo copia speculare medio l'altra ok eccola qua perfetto e adesso facciamo unisci se abbiamo fatto il coso fatto bene dovrebbe unirmi tutto uno anzi facciamo di nuovo unisce ok facciamo uno due tre quattro invio eccolo qua ok perfetto ok quindi anche questa è fatta allora selezioniamo lo mettiamo nel corpo mocha quindi destro il mouse cambio oggetti livello ok nel corpo mocha e e dobbiamo dargli lo spessore lo spessore era un millimetro virgola tre possiamo andare come spessore quindi possiamo dargli offset offset superficie selezioniamo invio all'interno va benissimo gli diamo quindi abbiamo detto millimetro punto 3 1 punto 3 invio invio e lui mi da mi darà uno spessore interno di un millimetro e 3 eccolo qua perfetto quindi dovremmo andare bene ci sarà un problema sicuramente se vado nel frontale vedete che se io utilizzo questo comando lui mi crea è uno spessore che va verso l'alto il che non va bene allora dobbiamo andare a livellare diciamo questo spessore qua quindi per livellarlo tranquillamente possiamo prendere una polilinea ci agganciamo no ci agganciamo niente andiamo leggermente sul basso e andiamo a tirarci la polilinea dall'altra parte così e poi cerchiamo su niente allora non ce lo fa ok allora dobbiamo tagliare assolutamente poi ricostruire diciamo le superfici quindi andiamo a tagliare questo modo qui perfetto e quindi facciamo tronca seleziono invio e tronco tutto ciò che è al di sopra della mia linea eccolo qua ok vado in prospettica ok l'unica cosa che avendo fatto questa operazione qua vedete che lui mi ha aperto ah eccolo qua vedete perché non mi faceva differenza buona eccolo qua il problema eccolo qua il problema ok di qua non me l'ha fatto mentre di qui mi ha creato questo problema qua questo problema qua bene quindi facciamo una cosa dobbiamo ritornare indietro fare ctrl z ctrl z z z z z z z z ok torniamo qua ok allora rifacciamo l'offset ma stavolta non solido perché se ci crea quel problema dobbiamo noi andare a controllare questa cosa quindi facciamo offset offset superficie ok superficie invio dove c'è scritto soldo si diciamo soldo no ok 1.3 me l'ha tenuto invio ok e lui mi crea 1 superficie interna eccola qua